La Toscana non è contraria al reddito di cittadinanza, ma si oppone all'assunzione senza concorso dei navigator, le nuove figure previste dal provvedimento del governo. Lo hanno detto il presidente Enrico Rossi e l'assessore al lavoro Cristina Grieco durante un briefing per spiegare la decisione della Giunta regionale di ricorrere alla Corte Costituzionale, non contro il provvedimento ma contro la norma che, hanno detto Rossi e Grieco, blocca lo scorrimento delle gradatorie degli assunti nella pubblica amministrazione, per un numero di posti superiore a quello messo in concorso. Questo naturalmente ha a che fare non solo con il tema dei centri per l'impiego e del rafforzamento, ma anche con questo tema che è un tema di attualità e di assoluta emergenza, perché noi abbiamo sempre detto al Ministro che siamo contrari alla precarietà, quindi ad un'immissione così massiccia di precari nei centri e che invece vogliamo partire con un rafforzamento serio dei centri facendo dei concorsi pubblici e rafforzando, immettendo operatori a tempo indeterminato. Presidente e Assessore hanno ricordato che l'organizzazione degli uffici è competenza esclusiva della Regione e hanno annunciato una variazione di bilancio che consenta alla Toscana di scorrere in modo autonomo le graduatorie e poi l'indizione del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato nei centri per l'impiego dei 60 lavoratori che la Regione ha deciso di assumere. A questi, a scorrere, si aggiungeranno quelli che spettano alla Toscana come quota parte dei 4.000 nuovi addetti e dei 6.000 navigator. Se il Governo in un decreto dovresse stracciare questo comma, naturalmente il ricorso sarebbe inutile e quindi potremmo procedere naturalmente a fare il concorso e a usare la graduatoria anche per i nostri tempi indeterminati che dobbiamo mettere a rafforzamento dei centri.